eccoci di nuovo ragazzi sul canale di animaggio siamo di nuovo su marvel spiderman 2 siamo forse l'episodio finale l'ultima volta avevo salvato da più vicino casa di may jay ma di mary jane ma praticamente l'ultima volta avendo messo la ps5 cioè avendola tolta dalla modalità riposo il gioco praticamente si è riavviato e così non mi ha salvato proprio da dove ho salvato io insomma quindi mi ha caricato il checkpoint leggermente più indietro comunque dovremmo essere al gran finale e vediamo cosa succede che cacca cade comunque sono qua e sono arrivato praticamente quello che dicevamo alla fine del gameplay eccoci qua alla fine del gameplay precedente ovvero questa scritta qua che dice questa è la tua ultima occasione per raccogliere risorse per potenziare l'equipaggiamento prima della conclusione della storia e quindi facciamo accetta quando dobbiamo studiare il piano per cercare di sconfiggere venum in poche parole cercare di portare eri alla versione diciamo la sua versione normale coscienza collettiva se tutti quei simbionti escono da manhattan addio terra benvenuto pianeta melma il meteorite è la fonte del potere no crea la melma e crea i simbionti ma era inutile prima che eri lo riparasse e è stato l'acceleratore di particelle a danneggiarlo l'ha rotto a bassa potenza e se noi aumentassimo quella potenza che ne so tipo a mille lo distruggeremo liberando tutti quanti dai simbionti in teoria ma quel bacino sarà pieno zeppo di simbionti e di certo eri non staccherà gli occhi dal suo sasso a meno che qualcuno non lo distragga io solo a scopo illustrativo eri non è cambiato vuole ancora curare il mondo un sogno incompleto senza il suo migliore amico io posso allontanare eri dal meteorite io posso occuparmi dei simbionti mentre io prendo il nostro sasso solo a scopo illustrativo bene accendiamo l'acceleratore via i simbionti mondo salvo poi ciurros per tutti in teoria connor sa detto che ha perso il controllo se non potrei salvarlo non succederà voi distruggerete il meteorite in tempo curiamo il mondo facciamolo speciale altro forse penso ci sia una messina magari secondaria o qualcosa che si collega al fatto che ma il servito già con quel vestito vicino peter magari c'era qualcosa da fare prima con lui che l'ho fatto di secondaria ma non lo so non credo però un retroscena su quel vestito insomma potrebbe servirti ricordiamo le scarpe dell'adidas a mai scherzo ma è vero niente a piacenti a sentite non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto siamo lo spider team l'unico inimità a me mi sembra una gafonata sta via per culo attenzione 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 speciale ehi amico starai seduto lì tutta la notte a giocare col tuo sasso siamo solo tu e io proprio come volevi il nostro dono sarà finalmente tu e il cazzo sta a dire c'è solo un dettaglio speciale prima devi uscire a prendermi c'è cascato con tutte le scarpe silvio venom scherzo speciale basta usare quella pistola lì a fare prima un colpo per ciascuno e j da te la fare di affa ma siamo lei mi ha aspettato insieme tre meteorite un bel ok capito millare 1 qua forse di dietro tipo fisse le scresce gialle acqua speciale diventa uno sparatutto in terza persona usano impulsi sonici sulle porte che cacca cade porca butana ammigai ma che esiste è una matina arrivo finalmente grazie a fatto alla wake scherzo speciale speciale quel faffo come diceva giovanotti se tra l'altro se mi basterà un'ora di registrazione per arrivare al finale del gioco vedrete alla fine è più forte lei con questa pistolina che spiderman e mai quindi un faffo speciale non 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 via 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 è una spia damo bastardi perché ma perché in questa nota da dire sono quasi fuori da questo buco l'ho uscita e oltre l'elicottero speciale dove andrà la fa culo so bella sta parte con mary jane che spara è una spia namo proprio vai la grande molto bene ma non mi sa che quelle bombe che ho distrutto erano per lui il bionte titano silvio o madonna possiamo scappare da sempre voglione quella madonna ma cristo no ma io sicuramente a meno male che il gioco me l'ha rimesse no ai cristo dio ma va ma cazzo ma ma dio fa ancora come controllo del basso della carica dio fa non so credere vieni uno speciale all'anima di gesù cristo vieni vieni speciale è un silvionte titano è un super silvio ma io sono veloce ma ma fa culo dai che è rimasta la fine ah vai a cagare va pezzo di merda dove devo andare ah ok forza ma è nabo è una spia nabo speciale si può prendere in braccio lei e scappare volando stesso con la dagnatele ma la speciale la superman ah no è sempre spider mi sa che il tuo più uno non è invitato alla nostra rimpatriata venom n'entangrassius harry oh madonna la presenta la feo io ci faccio andavano stand work for oscorp incredibela e dove siamo diventati amici si è vero ed è qui che diventeremo fratelli ma è cazzo stai a dire incredibile da alde serena scontro finale vieni con noi ricorda quante ne abbiamo passate assieme iniziamo subito con suck and action vai avanti tu devi essere tu bastardo flash ci ha preso schiaffi per quattro anni l'hai scordato eravamo deboli ma eravamo uniti oh perchè ma perchè ma perchè ma lì si ricaricherà quella roba lì figurate un po' e un po' e un po' e che si si attacca o no dio fa oh calmo eh online la madonna eeeh eeeh non vai a cagare pezzo di merda che sta facendo succede ahi scemo eh beh siamo di qua a questo punto eeeh si silvio il silvionte oh pura oh madonna all'anima della madonna eeeh addirittura porca puttana è fortissimo dimmi 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 ma cazzo va spiderman eeeh flash ci ha preso a schiaffi per quattro anni l'hai scordato eravamo deboli ma eravamo uniti sto spargendo l'infezione ovunque noi ce ne andiamo subito di qua abbiamo risolto scherzo nenta grazie proprio per niente a sen oh 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 nooo speciale oh madonna oh madonna che è qua oh madonna che è qua oh madonna nooo bugiardo sono fabbricino della cazzo bugiardo bella raga se se oh madonna con tutto quello che abbiamo fatto per te niente da fare questo ne ha tre di bar guau mateina ci vanno ora solo a togliergli le bar siiii ricorda quante ne abbiamo passate a sera ma cristo ma perchè eee du mamma teina ma forse devo usare il potere del silvionte il potere di silvio lì ma cazzo ma cazzo ma perchè non lo prende spiderman scoglionito totale eh la flash ci ha preso schiaffi per quattro anni l'hai scordato eravamo deboli ma eravamo uniti nooo è troppo tempo a riprendersi ma come mai porca butona niente da fare troppo forte bene quindi io direi che finisce qua ragazzi deve essere su spiderman certo io attacco con tutto quello che ho a disposizione ma non basta è veramente cosa che devo fare ci deve essere un modo per poterlo mezzo sconfiggere vai qua qua è leggermente meglio ma è sempre incredibilmente forte oh ma che fai è impossibile si deve muovere assolutamente a caso così sperando che mi dia vediamo vediamo qua vediamo se si riattiva qua se si va un cazzo qua oh vai bello e si arriva di nuovo via verso l'impito e oltre la grande Frank e c'è dobbiamo continuare a scampare se non so com'è che fa? dovrebbe niente grassiù no 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 è un vulnerabile alle ragnatele grazie che me l'hai detto no no mi ha preso un leggero schiantino no però abbiamo una cura la grande meglio di prima dai no Cristo figlio cane madonna di Dio figlio di buttana stronzo vabbè ma ho capito ma non è possibile giocare ma lei incredibile da forse qua dentro guarda ora che si bugga non so se c'è qualcosa da fare qua no no dammi la cosa ho sprecato una roba niente da fare oh fortissimo non ne posso più come si fa si riesce a evitare basta sapevo io che poi andava a finire così con tutta questa roba oh che oh e io continuo a fare il cretino aspetta va ma dov'è Cristo ma vaffanculo va che avessi sempre la cosa sarebbe una figata invece sto cazzo di affare non ce l'ho mai oh eh sì vabbè fin qua ci sono arrivato Spidey grazie grazie tante ah ma c'è qualcosa qua ecco perché che cazzo è mio cane dove è andato Cristo Dio ma porca puttana ma cazzo ve lo capito ma se non ne approfittiamo di niente veramente ma voglio dire incredibile quindi quello lì è il secondo ce ne deve essere un terzo da qualche parte qui questo no cazzo ma sto schiacciando qualunque cosa ma è possibile che niente c'è modo di cioè ma almeno arrivare alla seconda fase non dico tanto no dai buon danno spiderman andare via di qua sarebbe un'idea allora vediamo se è qui magari qua si ricarica non penso forse c'è un pisce lì non lo so no addio canterini niente da fare e al continuo vediamo l'altra parte c'è un elicottero qua che sta timbando il tutto che pezzo devo andare in modo di oh palma qua non c'è un coso da suonare c'è un qualcosa che posso dirlo qua non c'è qua e figuriamoci un po' cambia la piattaforma per evitare danni in a vaffanculo è il mio canterino cazzo qua arrivare già solo la seconda fase è durissima cazzo 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 nuova frase sbloccata molto bello quando tua madre si è ammalata non potevamo vederla così ok cercare di evitargli gli attacchi per cercare di no 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 e jesucristo molto bene dai vien si dai no 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 diocanterino quasi metà niente da fare non c'è modo di allora qua partiamo subito con il giocatore di colpirlo giusto no la forma già tutto ok poi qua deve essere un cazzo di no qui ok allora fino qua battaglia impeccabile no appena detto ma cazzo ma lo sto evitando ma pezzo di merda che non sei altro cane maledetto di casa mia ogni giorno dopo la scuola a dormirci quando tua madre si è ammalata non potevamo vederla così ancora ora ok ma dai prossimo anno dai cane vai meglio un carcere valle comunque l'hanno fatto veramente forte la devo sperare che non mi colpisca cura e io lo carcere vuole ralle o è un segreto è anche schiacciare probabilmente i tasti alla rinfusissima no 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 ho stregato l'occasione ma dammi poi un potere da poterlo saccagnare ma il cazzo sta digno che vieni E che fino a qua non ci siamo mai arrivati, no! Appena parli, madonna! Ah, basta, Dio fa, ma Cristo! Ma come si fa fare un finale così sbilanciato? Sembra Pippo Franco, qui. No, 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 è giustissimo, è molto ingiusto, non si fa. No, non si fa! Come dico a Rebecca. Ma il cazzo si... Ah, vaffanculo, ma non abbiamo altri oggetti da tirargli? Forse qua? Bisogna sperare che... Vai, attaccalo! No! Oh! Uh! È una super spia, namo! Oh, madonna! Eh, lo sapevo io, super sberdrone in faccia! Porca puttana! Ma quanti minuti siamo? Sì, 29! No, mamma tecnici! No, mamma tecnici! Niente, allora qua e poi qui è giusto per forza. No! 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 Un pezzo di nerf! Vedete in casa mia, ogni giorno dopo la scuola! La risa frase! Non potevamo vederla così! No! Eh, ma è troppo forte! Non ha... Cioè, non lo riesci a... Cioè, voglio dire... Niente da fare! Oh, porca troia! Fa... Magari? No! Via! Oh, cane! Che un cane sei! Mamma tecnici! Mamma tecnici! Dammi dell'energia! Dio fa! Dobbiamo sparargli ste cazzo di ragnatele che non servono mica un cazzo! Dio fa! Madonna Giuseppina! Dallo Serena! Oh! Coglione! Vai! No! Eh, no! No, 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 no! Ovviamente questo combattimento lo lasciamo integro! Non importa se faremo un altro episodio di... Ah, ma... Un culo! Io sapevo che era tosta così alla fine! I Girtan Fossi non dovevano farlo mille volte più forte dell'altro post finale di Spider-Man! Che go! Che go! Mi sembra di fare tutto il giusto qua, però! Il problema è solo perché non ho altri punti per scordirlo! Qua mi troverò grosso! Forse devo arrivare... Qua! Ad avere più potere! Credo, boh! Andiamo a scappare un po' prima adesso, vediamo un po'! Dai! Non devo avere paura di affrontarlo da vicino! Al merda qua! Credo che il segreto sia quello! No! 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 Non temo! Via! Ah, cavolo! Veramente forte! No! No! Ehi! Ma ste cazzo di mostre! Che... Lo scrivi! Dio cane! Cristo! Ma vai morì! Ma dio fa! Ma porca troia! Non c'è due senza un tre! Ehi! Facciamo una cosa! Proviamo... No! Salta! Ok! Ma qua è rimasta... La merda! Eppure io schiaccio... Ma se l'han fatto forte, però... Troppo forte! Eh, dai! Devo cercare di andarli più sulle spalle... No! Non muovia! Allora qua dovrei avere ancora... Una campanella! Vai! Quando l'hai persa! Quel giorno sul campo da football! Io c'ero! Ci sono sempre stato! Poi la malattia di nuovo! Oh! Ci hai abbandonati mentre lottavamo contro la morte! Stavo provando a salvarti! Anche se siamo quasi alla prima! Ok, non so capito! Vai! Indirazzate, dai! Adesso è nuova, quindi qua... Ci sta il saccagnamento! Ci compensiamo a vicenda! Eppiii! Eppiii! Eh, stavolta ti ho fregato, coglioni di merda! No! Vai! No! Alla fine no! No! Alla fine no! Guarda! Ok! E prima fase è andata! Oh! Se un altro poi ha salvato da qua... Mi auguro! Allora, Madonna! Ma direi no! Lo sappiamo! Ma che cazzo dici? Niente a piacento! Speciale! Siiiiiii! Perché continui a ostacolarci? Non mi hai dato altra scelta! Sì, mica ci sono altri così insieme Perché non ha senso Ma non ha senso Ma chi? Ma come fai con Venom lì? Ma poi non abbiamo un potere che possiamo Diciamo Speciale Eh, ovviamente Io mi auguro che si parta Da un secondo Dalla seconda fase Ok Molto bene Cioè vale solo per uno? Com'è? E' uno spider Ma incontro tutti Ma è un proprio tankista Diversa la barba qua per Venom Come mai? Ha una super Ah, tipo come si fa Non abbiamo più Cioè devo sconfiggere loro? Non devo sconfiggere Ah, bello Vai Vivo Molto bene Speciale Curale Cura Cura Ma cura lui O cura me? Non ho capito questa cosa Vediamo cosa è meglio per te Per tu Ti abbiamo dato tutto ciò che vuoi E tu l'hai gettato via Ho sbagliato tutto Sono incoglionito Venomo Oh Oh Ma lo sapevo Io lo sapevo Ehi Ma che sta a dire? Mi ha salvato 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 L'energia sarebbe più che sufficiente A darmi un po' di carica Oh No Bella evitata qua La grande Guarda se mi da una cazzo di energia Guarda Non mi da energia di niente Ma vaffa culo Noi non siamo un'altra Eeeh Dooh mamma te Il niente da fare Ma Cristo Perché continui a ostacolarci? Non mi hai dato altra scelta Sì 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 L'antica non brucerà un po', Harry Capisce veramente? È un cazzo di questa parte C'era sbagliato, dovevo continuare a starcagnando Sbagliato Ho sbagliato alla grande, dovevo continuare a dargli pugni Vabbè ma, allora qua Io penso che bisognerà subitissimo fare questo Ok Non funziona Calmo, affrontale uno alla volta Ma che merda, mi attacca anche quando Ok, allora qua c'è stato perfetto Dai Devo continuare a Sappiamo cosa è meglio per te, per tutti Ti abbiamo dato tutto ciò che volevi E tu l'hai gettato a me Ho sbagliato tutto Perdonami Sempre meglio dire Perdonami perché E cazzo stai a dirlo E io salverò te Pesso di merda Ok, adesso arrivo a toccare il momento di affrontarlo di nuovo Meno male che ogni tanto mi dà sti attacchi Sì, se no Ma devi completamente rovina È possibile poi che non abbiamo un altro posto dove Vuole solo confonderti, Harry Sei il mio migliore amico E perché non ti fidi di noi? No, che cazzata Mi fido di te, Harry Non di quella cosa che hai addosso Noi non siamo una cosa Dai No Cane Harry, hai rotto il cazzo, eh Ma vabbè, fa Madonna Cristo Il simbionte ti sta solo usando Il simbionte dentro c'è a te Eeeh, guarda Incredibile 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 da Ah, non c'è una Non c'ero mai A sconfiggere O mai Mai e poi mai Devo abbattere questi cosi Eh, ho capito Ma non puoi abbatterli Ma cazzo Vai, ma Dammi qualche possa Perché non si può giocare Baray Dai Sciù Adesso vai Serio Incredibile La forza brutta non serve Deve esserci un altro modo Eh, cazzo Sarebbe Altro modo che cosa Ma il casino qua Io fa Ma cazzo Posso liberarlo con l'antiveno Speciale Molto bene Molto gay Oh 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 Deve schiacciare i tasti Un po' la rinfusa Arrivati a un certo punto In questo finale Scherzo Oh Oh Basta Basta Merda Merda Basta poco Basta poco che c'è bo Dai Dai a cagare Merda Oh oh Seconda fase è andata Ancora Ancora questa cosa Ma basta Che stai a dire Pezzo di merda Non è proprio tanto un amico Harry Non culerò mai Il mondo insieme a te Non così Il meteorete Ce l'avete tolta Che succede? Oh la madonna Non sapevo che avesse anche le ali Vero? È stato più pesta De l'ast Una nottola Leggermente più grande Si scherza E mo? Meiji Miles Eseguiti da tutti i simbionti del pianeta L'ultima missione del gioco Non è tan grassiudo della storia C'è ancora Di particuelle Lo senti anche tu Eh un bene Non è tan grassiudo Oh oh Orta puttana Ha fatto quella faccia lì Miles Pogba ha fatto la faccia Non è tan grassiudo Con fronti Frank qua Frank Venom Speciale Temporeggiato almeno Sta bene Venom? Si scherza Quanti minuti siamo Scusate ragazzi 49 Perfetto Non riuscirò mai a finirlo adesso Mi ci penso io a lui Dov'ai? Ok Miles vs Venom Che dobbiamo fa? Infatti quello che dico anch'io Guardati il salto bello Il nostro futuro non ti appartiene Vedati Ne faccio a meno Perché non va? Come devo fare ad attaccarlo A Frank qua? Ma non si può fare un combattimento In voo Dai su Forse deve tirarci questo Ok Dobbiamo Credo Oh Beh Come è successo? Dobbiamo aspettare Credo che ci Speciale Meglio che un carcione rally Vai Speciale Ho stupito Veramente Proprio Abbiamo la super Monsta Speciale Vai Dagli Nel Taglio Ma Sperso Vai Spara Niente Sicura Ora Speciale Dobbiamo Continuare Aspettare Che Ok E cazzo Stai a dir Beh è più facile Questa parte Rispetto a prima Decisamente Speciale Bello Bello Gli otto gli ali Speciale A tua madre Come io A mio padre Te lo ricordo Ma se ti direbbe Adesso E' stato Rincuglionito Il Venom Che siamo Così Vicini Ma che sta a dir Che sta a dir Ma già bene Che questa è quasi La parte finale No E' ingiusto Questa cosa qua Oh Che cazzo Eh va Oh no no Ah smuzzicata Anche lui Il collo Come Il sangue Come una vantera Pezzo di merda Che non sei altro Maledetto Bastardo Cornuto Maledetto Bastardo 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 Speciale Abbiamo la cura Aspetta Aspetta che Aspetta che No Non abbiamo Un momento che Sta scendendo Speciale Ha funzionato Ah Fanculo Oh Oh Dammi sta cazzo Di cosa lì Ma cos'è Ma perché Ha fatto sta cosa Che non gli ha Tolto nulla Qual è il problema Oh Mi ha preso Oh cazzo Incredibile Quando Devo aspettare Che si Rincoglionisce Di più Tipo così Adesso Ma pezzo Di merda Non me Prendi Ma io Cosa fa Scusa Erry Ne ho abbastanza Di quest'icolo Ti farò svegliare Ma basta Cristo La madonna No I molte ali No basta Con ste ali Di merda Ma vai Ma dove le mani Ah Fa culo Non staccolarsi Miles Miles e poi Miles Tacco ragnatela Ma come fa Ma non ha fatto La tacco ragnatela Vabbè Non importa Pezzo di merda Ma la grande No Ah ma hai fatta Sta cosa qua Colombo Ma non vedi Che Venom Non è collaborativo No Dai dai che Continua a fare Ste mosse inutili Che non hanno Un senso logico Dai Eccolo 45 minuti Sapevo io L'attacco ragnatela Non si può fare Madonna cristo Ha preso Speciale Viene un po' i coglioni Che devo Registrare la seconda parte Del finale Però vabbè Questo è quanto Eh Ma voi Morì No Speciale Ma va a cagare Ancora Stai graziuti Porca puttana Ho vinto Che succede Non ti ha piacenti Ma Meteorite Non ti ha Graziuso Fita Fai qualcosa Deficiente Fai qualcosa Ma non così Grazie a te la parte Bravo Ma è Speciale Bravo Pogba Ancora Bene ragazzi Direi che Io Salvatore Quindi ripartiremo Da qui Mi dispiace Dividere in due parti Ma il primo combattimento Delle prime due fasi Mi hanno tolto Diverse vite Come avete visto Con Peter Quindi Rimettetemi Sintonizzati Sul canale D'animaggio E tornerò Penso Con l'episodio Conclusivo Di Marvel Spider-Man 2 A presto E torneremo Proprio da qui Dal finalone Ciao a tutti Di affa Ciao a tutti